È nato a Napoli 350 anni fa, 351 per l'esattezza e ancora tanto da raccontare. Stiamo parlando di Giambattista Vico, il filosofo della storia, pensatore originale, innovativo per la sua epoca anche se poco compreso. Verrà rivalutato solo nell'XX secolo da Benedetto Croce. È sostenitore Vico di una cultura umanistica e anche letteraria contro il pensiero matematico scientifico. Contrappone alla filosofia dominante cartesiana la storia intesa come scienza della realtà. È suo il binomio verum equivale a factum, il vero al fatto. Per lui si può conoscere la verità solo se la si è compiuta. Ma c'è un altro elemento che rende Vico più che mai attuale ed è relativo alla sua teoria filosofica del linguaggio. Vico invita a recuperare, a ridefinire il significato originario delle parole e non solo dal punto di vista etimologico. Perché le parole hanno un senso, hanno un peso, le parole creano, le parole pensano e noi pensiamo con le parole. In realtà in un mondo come quello di oggi dove le parole sono porose, direbbe il filosofo Cacciari, ecco recuperare il senso originario nella dialettica potrebbe riservare interessanti sorprese.